Il segretario provinciale Francesco Pinnelli della Wilpa Polizia Penitenziaria si è voluto congratulare con il personale della Casa Circondariale di Castrogno per l'ottimo lavoro svolto nel corso della recente perquisizione straordinaria delle celle malgrado la carenza di personale nel carcere Terramano, definita gravissima al punto che secondo la Wilpa sarebbero necessari quasi 100 agenti in più. Nonostante la carenza di organico, i poliziotti dell'Istituto Terramano sono riusciti sempre e comunque ad esprimere la loro professionalità, come quella dimostrata qualche giorno fa quando nel corso di una perquisizione straordinaria sono stati rinvenuti alcuni cellulari occultati dai detenuti, telefoni che ora saranno oggetto di ulteriori accertamenti da parte della Procura della Repubblica. Infatti da circa un anno il possesso e l'introduzione di telefoni cellulari in carcere costituisce un reato punito con la reclusione da un anno a quattro anni. Il sindacalista Wille nella nota ha voluto anche precisare che nel contempo non possiamo non auspicare che l'amministrazione penitenziaria ponga rimedio alla gravissima carenza di personale. Non è più possibile pensare che con l'utilizzo dello straordinario si possa compensare la mancanza di uomini, in special modo in un carcere a gestione complessa come quello Terramano, dove convivono detenuti di alta sicurezza, detenuti comuni e detenuti cosiddetti protetti. Secondo Pinnelli l'attuale carenza di personale sulla carta sfiora le 50 unità, ma nella realtà ne occorrerebbero quasi il doppio per una corretta gestione dell'Istituto e soprattutto per garantire i diritti dei lavoratori, è sempre notizia di questi giorni che ad alcuni poliziotti sarebbero stati revocati giorni di ferie senza alcun preavviso e la Wilpa Polizia Penitenziaria ha già chiesto urgenti chiarimenti al direttore dell'Istituto.